Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale Oggi ragazzi vi dirò come entrare dentro un blocco Dentro un blocco Così, guardate Allora, noi Entriamo dentro un blocco E' facilissimo da fare Allora Dobbiamo Prendere un blocco qualsiasi Metterlo E poi Prendere un command block Vi lascio il link in descrizione Per il comando del command block Poi Scavate Sotto E fate una basetta Come l'ho fatta io Poi fate Imposta punto di generazione E vi usciranno delle coordinate Voi Andate dentro il vostro command block E fate slash tp Chiaccio la p Le coordinate Dato che le ho già messe Non mi servono Poi chiudiamo E mettiamo una pressure plate E ci porta dentro il blocco Poi per ritornare Dobbiamo fare un'altra cosa Dobbiamo fare un'altra cosa Allora Prendiamo il pulsante Vediamo Se il video vi è piaciuto Lasciate un like Iscrivetevi al canale Ciao raga